Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane, acqua, noce moscata, uova, sale, pepe, prezzemolo, basilico, pecorino, parmigiano, pangrattato e scamorza. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità a 2. Le melanzane sono cotte, lasciamole intiepidire. Svuotare il boccale. Dopo aver svuotato il boccale, mettere il parmigiano e il pecorino ed il prezzemolo e il basilico. Ed azionare il bimbi per 20 secondi da velocità 6 a velocità 10. mettere il trido da parte senza lavare il boccale mettere le melanzane che si sono intiepidire il sale il pepe e la noce moscata ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 5 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova il pangrattato il pangrattato il trido di parmigiano ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5 trasferire il composto nei pirottini per muffin posizionare la scamorza al centro di ogni pirottino cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa i muffin sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servire muffin di melanzane grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti